Ciao ragazze, oggi voglio farvi vedere le ultime cose che mi sono arrivate dai miei amici China e non solo in realtà, un po' di cose varie e non guardate i miei capelli per favore sto cercando di non piastrarli, non boccularli, non fargli niente perché mi stanno uscendo le doppie ponte e non voglio assolutamente tagliarli, quindi poverini, lasciamoli disintossicare per un periodo anche se non so quanto resisterò, però ci provo allora oggi voglio iniziare da Dresslink e sto scremando un pochino i siti cinesi con cui collaboro perché alcuni hanno dei prodotti di talmente tanta bassa qualità che non ha senso secondo me ricevere cose così schifettose, tanto per farvele vedere quindi ho chiuso un bel po' di collaborazioni per questo e sto scegliendo i siti che secondo me sono i migliori, con la qualità un pochino più alta e Dresslink è uno di questi, mi sono arrivate tutte delle cose veramente molto belle la prima cosa che vi faccio vedere è questo maglione peloso bianco e la moda di questi maglioni è scoppiata l'anno scorso, credo però io non ne avevo neanche uno, non lo so in realtà perché non l'ho mai comprato mi sono sempre piaciuti tantissimo e quando l'ho visto da Dresslink l'ho voluto prendere subito, mi piace da morire, è morbidissimo non potete capire quanto è morbido, arriva bello lungo cioè non lunghissimo, però non è uno di quei maglioni che stanno corti è bellissimo e non ha quasi nessun difetto tranne il fatto che le maniche arrivano corte e questa cosa lo sapete io la odio, non capisco anche perché io ho freddo, voglio coprirmi tutta e non voglio che il maglione mi arrivi qui cioè che senso ha ragazze che il maglione arrivi qui? è una cosa che non sopporto, ok? che magari ci risparmiano quei 3 cm di stoffa ma per favore, magari fatelo pagare un euro in più però io voglio che i polsini coperti il secondo maglione, che in realtà è più un maglioncino, una maglia che un maglione è questo qui, che davanti ha questa trama abbastanza larga credo che sia cotone puro, non misto ad acrilico perché toccandolo sembra proprio cotone ed è molto semplice, tranne per il fatto che dietro e fino a mezza manica ha una decorazione in pizzo anche questa fatta veramente molto molto bene, mi piace anche questo, perfetto, vi giuro, Dresslink mi ha stupito da matti perché arrivano tutti i capi senza nessun filetto fuori posto come se fossero dei capi di H&M tali e quali, veramente, secondo me sono gli stessi senza etichetta ci assomiglia tantissimo poi da Dresslink in realtà avevo ricevuto un terzo maglione bellissimo, a trecce bianche il problema che l'ho messo a lavare cioè in realtà non l'ho messo a lavare io me l'ha messo a lavare Alessandro voleva farmi un favore, il problema è che a casa mia il processo lavaggio-stiraggio richiede almeno due o tre settimane e quindi è andato perso tra le cose da stirare però anche quello era molto molto bello mi piaceva perché era morbido però non mi faceva l'effetto tipo sacco della spazzatura gigante un'altra cosa che ho scelto da Dresslink invece è questo colletto che non sono ancora riuscita ad abbinare semplicemente perché non sono ancora riuscita a trovare un maglione che abbia questo scollo però è fatto benissimo ha queste pietruzze argentate sul nero mi piace da morire è fatto proprio bene sono tutte cucite alla perfezione non ce n'è neanche una staccata veramente mi piace tantissimo è assurda la qualità di questo sito per i prezzi che ha veramente l'ultima cosa che ho scelto invece perché avevo ancora tipo un euro, un dollaro, due dollari così ho scelto questi anellini e questi qui sono gli anellini che rimangono nella parte alta delle dita sono 12 mi sembra e sono fatti bene l'unica cosa che ho da ridire è che sono tutti della stessa misura io mi aspettavo che ce ne fosse magari uno un po' più largo un po' più piccolo per rimanere a diverse altezze del dito invece se hanno tutti grossi uguali o li metti tutti, non lo so, tutti nello stesso posto magari uno in un dito, uno nell'altro ma se ne vuoi mettere due nello stesso dito a diverse altezze non riesci perché sono tutti larghi uguali cioè non è molto intelligente avere 12 anellini esattamente identici anche di dimensioni l'altro sito che vi faccio vedere invece questa volta è l'OSAP e mi sono un po' avventurata in cose che non avevo mai ordinato io sono sempre stata scettica nell'acquistare determinati articoli anche se non li ho comprati io però nel senso nell'ordinare determinate cose su internet tipo scarpe e pantaloni perché anche quando io vado in negozio se non lo provo non riesco a comprarle queste cose allora vedete che io prendo sempre un maglioncino una maglietta, un accessorio e mai le altre cose questa volta ho deciso di prendere invece questi stivaletti sono particolari hanno la punta laccata mentre il resto è in finta pelle il tacchetto è relativamente basso e poi hanno questo cinturino che gira intorno allora la prima cosa che mi viene assolutamente da dire è che puzzano ma da matti mi sono arrivati tipo 3-4 giorni fa quindi magari la puzza andrà via però diciamo che si sente parecchio sta puzza puzza di plastica alla fine però non è proprio una bella cosa se va in giro secondo me usandole un po' andrà via allora per il numero io sono generalmente un 39-40 però erano anni che io non compravo delle scarpe numero 40 non so perché non credo che mi sia restretto il piede il 40 lo usavo più che altro per le Nike e non comprandole più nell'ultimo periodo usavo più che altro il 39 allora ho scelto il 39 mi stanno un pochino stretti cioè la lunghezza è abbastanza giusta però sulla punta un pochino mi stringono quindi io vi consiglio se volete comprarle di abbondare magari scegliere non dico un numero in più però se siete indecise non prendete quello più piccolo al massimo ci mettete una soletta io non lo so magari perché mi hanno inviato il modulo per rispedirlo indietro e cambiare il numero però non lo so sono un po' indecisa magari proverò ad allargarle mettendo non so come si chiama il coso per allargarle l'altra cosa che ho preso da OZAP invece sono questi occhiali da sole da gatta super allungati ovviamente questa è plasticaccia pura e io mi ostino a comprare occhiali da sole anche d'inverno ma fa niente ce li avrò d'estate e sono un po' tipo giganterrimi non lo so mi coprono tutto il viso e non so se mi stanno bene però va bene gli occhiali da sole ormai sono la mia nuova passione lo sapete cioè si sono carini però secondo me non vale la pena ordinarli da un sito perché li trovate perfettamente i cinesi anche fatti meglio sono proprio si sentono che sono fragilini un'altra cosa che mi è arrivata che in realtà non arriva assolutamente dai siti cinesi è questa custodia della Ops Objects è una di quelle cover che dovrebbe profumare però sinceramente non profuma neanche quando l'ho tolta dalla scatola profumava quella della Giulia invece che lei l'aveva scelta in un altro colore profumava tantissimo questa qui sinceramente quasi puzzava non aveva proprio un buon odore mi è arrivata col corriere GLS credo che poverino si era perso non lo so non trovava a casa mia mi ha dovuto chiamare sono andata a prenderlo però vabbè non trovava a casa mia insomma arriva in questa bustina con questi cuoricini e la sua confezione molto curato nei dettagli che dire di questa cover è una di quelle cover morbidose mi piace tantissimo il dettaglio del cuore l'ho voluta prendere grigia era indecisa se prenderla grigia o nera però qualcosa di diverso ho pensato per non avere sempre le solite cose in generale la cover mi piace la sto usando nell'ultimo periodo il problema è che non capisco come una cover che costa 16 euro 19 non mi ricordo possa non essere curata in ogni minimo dettaglio nel senso che nel bordino c'è come la saldatura dei due pezzi di cover che è una cosa che a me non è piaciuta assolutamente io vorrei che fosse completamente liscio credo che sia un effetto voluto perché da una marca come la Ops di altissima qualità che cuore nel minimo dettaglio gli oggetti gli accessori non credo che sia un difetto di fabbricazione cioè non ci credo quindi sinceramente in una cover di questo prezzo io non vorrei trovare un difetto del genere però per il resto è bella solitamente preferisco le cover un po' più asciutte o un po' più discrete perché queste qui rendono l'iPhone molto grosso però mi piace il fatto che se cade almeno lo riparano al 100% e non si rompe cioè se si deve rompere si rompe comunque però almeno un pochino più protetto l'ultima cosa che vi faccio vedere invece è questa collana che è stata fatta a mano da una ragazza che ha una pagina Instagram che si chiama i dolci bijiudianto vi lascio giù il link nell'info box andatela a trovare perché veramente fa delle collane troppo belle è stata molto carina chiedermi se volevo che mi inviasse una delle sue collane e io ho scelto questa qui dorata con le perline bianche adesso non riesco l'intrecciata tutta ok questa qui insomma mi piace moltissimo è veramente molto brava andatela a vedere e non so se l'avete notato se state spedendo delle cose nell'ultimo periodo le poste sono impazzite nel senso che invio delle cose con la posta prioritaria oppure me le inviano a me e il giorno dopo dopo meno di 24 ore sono arrivate questa qui fate conto che arrivava dalla Sicilia se non sbaglio non voglio dire una cavolata però credo dalla Sicilia io abito in Lombardia e dopo un giorno ce l'avevo a casa cioè assurdo e niente ragazze queste erano le cose che volevo farvi vedere non sono sparita sto armeggiando lavorando un po' per per fare il video sulle decorazioni di Natale e dato che sono lunga e mi avete detto di non postarlo dopo capodanno giustamente mi sto concentrando un po' su quello quindi non sono riuscita a postare video questa settimana ma adesso settimana prossima ne caricherò qualcuna in più dai già che ci sono vi faccio vedere anche un paio di cose che ho comprato oggi da H&M allora allora vi faccio vedere in realtà sono andata perché dovevo cambiare delle ciabattone e dovevo andare per forza oggi perché io sono così cretina che aspetto l'ultimo giorno in cui posso effettuare il cambio se no non sono contenta e in pratica dovevo cambiare queste ciabattone qui che ho comprato un mese fa solamente che io ho comprato il 38-39 perché ho detto ma si dai il 39 cioè mi andranno bene invece no ho dovuto cambiarle col 40-41 che mi sembrava enorme ma le altre mi stavano piccole quindi le ho prese queste qui ed erano scontate al posto di 15 le avevano messe a 10 e dato che io le avevo pagate 15 ho dovuto scegliere qualcos'altro le volevo da tantissimo tempo quando le ho viste a 15 euro le ho comprate subito perché da oiscio penso ci siano 30 euro se non sbaglio magari dico una cazzata però io le ho viste a 30 euro anche la Giulia le voleva comprare da tanto tempo quando ho visto che le ho comprate io le ha prese anche lei poi a 10 euro quindi ha fatto l'affare l'altra cosa che ho comprato invece aspettate che le apro ok allora sono queste calze qui volevo entrare un po' nel clima natalizio quindi sono rosse mi piace da morire a me questa trama non ho nessun maglione fatto così e lo sto cercando da tantissimo tempo rosso e bianco ma non lo trovo e quando lo trovo è tipo gigante e non lo voglio gigante e poi queste calzine ci hanno le palline qua davanti costavano 10 euro però col fatto che avevo i 5 euro delle altre ciabatte che adesso sono ascoltate a 10 le ho pagate tipo 5 euro non so se mi sono spiegata però alla fine mettendo altri 5 euro mi sono presa queste anche se devo dire l'età che 10 euro mi sembrano un po' un po' tanti e niente ragazzi questo era tutto spero di avervi dato qualche spunto ricordatevi che tutti i link delle cose che vi faccio vedere ve le lascio sempre giù nell'info box spero di esservi stata utile in qualche modo se avete qualche domanda comunque scrivetemela sempre giù nei commenti io adesso chiudo qui monto sto video e lo carico altrimenti mi linciate perché non carico video scusate settimana scorsa sono andata un po' dalla Giulia perché eravamo tipo tutte e due molto depresse depresse è la parola giusta e quindi anche lì ho un po' staccato la spina da youtube siamo state un po' insieme spento tutto cellulari e quindi è per questo che non sono stata molto presente ciao ragazze ciao ciao